Francesco Camarda è uno dei tanti gioielli che Daniele Bonera avrà a disposizione per il suo Milan futuro. Il giovane attaccante italiano, classe 2008, ha da poco firmato il suo primo contratto da professionista che lo legherà fino al 30 giugno 2027 al Milan, che tanto crede nelle potenzialità di questo ragazzo, che è il futuro non solo del diavolo ma anche della nazionale italiana. Con l'eliminazione dall'europeo Under-19 degli Azzurrini, è terminata non solo l'avventura della squadra del CT Corradi in Irlanda, ma anche l'intensissima stagione di Francesco Camarda, nella quale il giovane attaccante del Milan ha battuto diversi record di precocità. Nel complesso, comunque, la stagione del Camarda è stata più che positiva. Sono 44 le presenze totali con la maglia del Milan, due delle quali addirittura con la prima squadra, alle quali si aggiungono anche 14 reti e 5 assist, tutte con la primavera. Primo 2008 a segnare nel campionato primavera Più giovane marcatore italiano in Youth League Più giovane marcatore nelle tre competizioni Under-19 Youth League, Primavera 1 e Coppa Italia Primavera Più giovane esordiente nella storia della Serie A Più giovane esordiente nei top 5 campionati europei Più giovane marcatore in un campionato europeo Under-19 Più giovane a segnare una doppietta in un europeo Più giovane esordiente nei top 5 campionati europei Più giovane esordiente nei top 5 campionati對不起